Curr Buster Keratin Treatment Curr Buster Keratin Treatment è un trattamento lisciante alla keratina, professionale, certificato senza formaldeide e strutturato in tre fasi, ideale per lisciare e domare capelli ricci e crespi come quelli della nostra modella. La prima fase del trattamento lisciante Curr Buster Keratin Treatment consiste nell'effettuare un lavaggio con lo shampoo specifico Stage 1 Shampoo PH 6.8. Distribuisci bene il prodotto sui capelli bagnati e massaggia delicatamente. Risciacqua e ripeti un nuovo lavaggio lasciando in posa per alcuni minuti. Risciacqua ora abbondantemente. Passiamo ora alla fase centrale del trattamento, l'applicazione del Curr Buster Keratin Treatment Stage 2 Smoothing Disciplining Cream. Dopo aver risciacquato abbondantemente il secondo lavaggio effettuato con lo Stage 1, asciuga parzialmente i capelli con il phon e procedi all'applicazione dello Stage 2. Dividi i capelli in sezioni e con l'aiuto di un pennello applica uniformemente lo Stage 2 su singole ciocche da 2 cm. Una volta conclusa l'applicazione, lascia in posa per circa 30 minuti. Asciuga ora con il phon. A capelli asciutti, passa la piastra su ogni singola ciocca di 2 cm, ripetendo l'azione 6-8 volte. Quando questa fase di termoattivazione è conclusa, risciacqua abbondantemente con sola acqua e procedi con lo Stage 3. Il terzo ed ultimo step, fondamentale per la corretta esecuzione del trattamento, consiste nell'applicazione della maschera per capelli Stage 3 Mask PH 3.8. Applica la giusta quantità di prodotto sui capelli bagnati e distribuisci uniformemente con il pettine sulle lunghezze. Lascia in posa 4-5 minuti, risciacqua e prima di asciugare applica lo spray di mantenimento Taming Spray. Il trattamento Curbuster Keratin Treatment assicura un liscio perfetto e duraturo senza aggredire il capello. Lasciandolo invece più morbido e sano, donando lucentezza e setosità. Il Curbuster Keratin Treatment si completa con un kit di tre prodotti di mantenimento per uso domiciliare. Il kit è composto dallo shampoo, privo di solfati e sali aggiunti per non intaccare le molecole liscianti, una maschera caratterizzata da una speciale formulazione, ed infine lo spray che reintegra le molecole rinnovando il trattamento dopo ogni lavaggio e assicurandone una corretta e lunga durata. Tutti e tre i prodotti sono caratterizzati da un pH idoneo a preservare il trattamento e arricchiti da cheratina, olio di semi di lino e acido ialuronico per nutrire, rinforzare e idratare in profondità il capello. L'uso del kit di mantenimento è fondamentale per preservare nel tempo l'effetto liscio ottenuto in salone, che rischia diversamente di essere indebolito se non annientato dall'uso di prodotti non idonei. L'uso del kit di mantenimento è fondamentale per non intaccare le molecole rinnovando il trattamento dell'uso di rischio.